Casa della Salute, Chiera Valle Centrale, Pitaro, recuperare il tempo perduto. Gestione della sanità nel comprensorio delle preserre, per il consigliere regionale Francesco Pitaro, del gruppo misto e componente della Commissione Sanità, è arrivato il momento di recuperare il tempo perduto. Il riferimento è alla Casa della Salute, progetto che da qualche anno si è arenato per via di una politica sanitaria miope nei confronti dei territori. Adesso è tempo di ripartire e quindi di coinvolgere direttamente Regione Calabria e azienda sanitaria provinciale, perché si torni a ragionare in termini di impegni da assumere e tempi da rispettare. In ballo ci sono 8 milioni e 300 mila euro che devono essere spesi per la nuova costruzione della struttura sociosanitaria, che prevede la demolizione del vecchio manufatto realizzato intorno agli anni 70, che ha ospitato l'ex ospedale San Biagio. Il Consiglio Comunale Intero e il Sindaco Domenico Donato ha già fatto la loro in materia di rilascio delle concessioni edilizie, poi il blocco delle procedure provocato dal decreto Calabria. Passare dalle lamentazioni croniche alla concretizzazione dei progetti, dice il consigliere regionale Francesco Pitaro, soprattutto di quelli considerati risolutivi dei problemi che affliggono intere comunità, ma che spesso impattano in ritardi spaventosi, come è accaduto per la Casa della Salute di Chiaravalle, di cui si parla da quando è stato smantellato il presidio ospedaliero e che ancora non vede la conclusione. Chiederò al Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Baldo Esposito, di convocare i decisori pubblici, come il Dipartimento, Commissario e la stessa azienda sanitaria, assieme ai sindici dell'area, a partire dal primo cittadino di Chiaravalle, su una problematica di grande valenza a livello comprensoriale. Dicevamo dell'opportunità che è arrivata dal Governo nazionale, che torna a dare alla Regione Calabria quella che è la centralità in materia di appalti e forniture di servizi in ambito sanitario, con l'attivazione della stazione unica appaltante. Oggi, grazie all'emendamento proposto dal decreto semplificazioni, conclude Francesco Pitaro, appena convertito in legge che, superando l'assurda previsione del decreto Calabria, con cui si individua la situazione unica appaltante in una società in house della Regione Campania, riconsegna alla Calabria la gestione degli appalti sopra soglia nella sanità. Si può tornare sul tema e dare un taglio a ritardi e inadempienze che si frappongono alla realizzazione di un'infrastruttura sanitaria fondamentale per l'entroterra della provincia catanzarese. L'argomento preso sarà oggetto di un apposito punto dell'ordine del giorno, da parte della Commissione regionale alla sanità. Si tratta di un progetto pilota legato alla Casa della Salute per far funzionare adeguatamente quella che è la medicina generale territoriale. Oltre alla realizzazione del nuovo edificio, c'è da mettere mano all'adeguamento delle strumentazioni, diagnostiche e al potenziamento degli ambulatori medici, assegnando al Presidio quelle che sono le risorse umane necessarie per il buon funzionamento della sanità in periferia. Ed ora ci spostiamo a Davoli Marina con questa notizia. Domani, 19 settembre, alle ore 18, presso la chiesa San Roberto Bellarmino di Davoli Marina si terrà una santa messa al ricordo dell'amico Antonio Bongarzone in occasione del primo anniversario della sua scomparsa. Covid, assoverato tampone negativo per l'avvocatessa entrata in contatto con i due nuovi casi, saltano le prime comunioni, preoccupazione tra i cittadini. I cittadini di Soverato preoccupati dopo i due casi positivi riconducibili ad una coppia che ha partecipato ad una festa di matrimonio. Tamponi a tappeto per le persone presenti al rito nuziale, tra queste un'avvocatessa che è risultata negativa e fa tirare un sospiro di sollievo ai parecchi contatti che inevitabilmente la donna ha a traule di tribunale. Ma la paura la fa da padrona. In via precauzionale sono state annullate le cerimonie di comunione per molti bambini della città previste per domenica prossima. Per Tele Ionio, Lorena Pallotta. Donna uccisa a Belvedere Marittimo, fermato presunto autore, 32enne. È un disoccupato, 32enne, Andrea Renda, l'uomo ritenuto l'autore dell'omicidio da Nelia Di Mova, di 55 anni, bulgara, uccisa il 30 agosto scorso nella sua abitazione di Belvedere Marittimo. I carabinieri della compagnia di Scalea, con il supporto degli specialisti dei risti di Messina, avrebbero chiuso il cerchio dell'assassinio della donna che viveva stabilmente a Belvedere nel centro storico, dando esecuzione nella notte al provvedimento di fermo di indiziato di delitto. A Renda viene contestato l'omicidio e la rapina e l'ipotesi degli inquirenti è quella di un tentativo di rapina finita a male. Nelia Di Mova era stata trovata priva di vita nel proprio letto, in una pozza di sangue e con il volto coperto da una federa di cuscino, tenuta con del nastro adesivo. Secondo le immagini è stata colpita a morte con un oggetto contundente. La donna, infatti, presentava una ferita alla testa con una lesione al cranio. Al momento non è stato accertato il movente che avrebbe portato il 32enne ad uccidere la donna. Sulla scena del delitto, nell'immediatezza, erano state trovate delle impronte e alcuni oggetti che potrebbero essere compatibili con le ferite alla testa della donna, tra cui una bottiglia. Dalla casa mancavano la fede della vittima, poi ritrovate in un comproro della cittadina tirrenica e altri oggetti di valore, un telefono cellulare e la borsa sempre della vittima. A incastrare il 32enne ci sarebbero le immagini della videosorveglianza urbana che ne indicano l'ingresso in casa della donna alle 2.07 e l'uscita circa mezz'ora dopo. Il ragazzo è lo stesso che poi è stato ripreso dalle telecamere del comproro mentre entrava nel negozio. 17 punti caratteristici tra l'uomo ripreso nelle immagini e il 32enne fermato. All'uomo viene contestato l'omicidio e la rapina, ma sul momento ci sono altri aspetti da chiarire. Processo Gota in aula Scopelliti sceglie di non rispondere. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Si è consumata così, nell'arco di pochissimi minuti, la presenza in veste di testimone nel processo Gota dell'ex sindaco di Reggio e presidente della regione Giuseppe Scopelliti, citato nel troncone in corso con il rito ordinario nell'aula bunker dai difensori dell'ex senatore del PDL Antonio Caridi e dell'ex assessore comunale Amedeo Canale. Giuseppe Scopelliti, in atto in regime di semilibertà, è giunto in aula accompagnato dal suo difensore, l'avvocato Aldo Labbate. L'ex presidente della regione in Gota risulta anche indagato per reato connesso. Tra gli imputati di primo piano chiamati a rispondere a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno, violazioni della legge Anselmi sulle società segrete, risultano l'avvocato Paolo Romeo, ex parlamentare del PSDI, l'avvocato Antonio Marra, già consigliere di amministrazione di Fincalabra, l'ex segretario regionale alle riforme dell'Aggiunta Scopelliti, Alberto Sarra, l'ex presidente della provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa, la giornalista Teresa Munari, il sacerdote Giuseppe Strangio. Il collegio è presieduto da Ornella Pastore, mentre la pubblica accusa è rappresentata dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e dai sostituti Stefano Musolino, Roberta Di Palma, Giulia Pantano e Walter Ignazitto. Giuseppe Scopelliti era stato condannato a quattro anni e sette mesi di reclusione dalla Cassazione nell'aprile del 2018 per irregolarità nel bilancio del Comune di Reggio Calabria. Durante la giornata è stato destinato dal Tribunale di Sorveglianza ai servizi sociali presso una cooperativa e la sera rientra nel carcere di Argillà. Ma al tempo un gruppo di pescatori amatoriali mette in salvo delle imbarcazioni. Come quando piove con intensità per pochi minuti e puntualmente si allagano alcune strade, bisogna intervenire prontamente per evitare il peggio. Così accade anche nel porto di Catanzaro. Basta che il mare si agiti un po' più del dovuto ed ecco che è necessario intervenire per fronteggiare alcune criticità. Alle prime luci dell'alba di oggi un gruppo di pescatori amatoriali è intervenuto nei pressi della zona del secondo molo Lato Giovino per portare in salvo alcune imbarcazioni situate al ridosso della spiaggia e nel bacino d'acqua all'interno delle mura del porto. Una decina di imbarcazioni, in tutto tra barche da passeggio e piccole barche di pescatori amatoriali che grazie all'intervento di questi uomini sono state messe al sicuro. Il tempestivo intervento del gruppo prima che la perturbazione prevista diventasse più intensa ha evitato danni materiali ai proprietari delle imbarcazioni. Ora ci si chiede se in un porto dove le barche dovrebbero essere ben organizzate al sicuro dal mare in tempesta tanti interventi debbano essere prassi e ripetersi puntualmente durante le prime piogge di settembre. Nessuna situazione di criticità è stata invece riscontrata nei pressi del molo dove sono ancorate le paranze dei pescatori. Vigile del Fuoco muore dopo aver bevuto solfato di bario indagati 5 sanitari tra Cropani e Catanzaro. Responsabilità colposa per morte o lesioni personale in ambito sanitario ruota intorno a quest'ipotesi di reato del fascicolo aperto del sostituto procuratore Irene Crea a carico di 5 sanitari coinvolte nella morte del Vigile del Fuoco Antonio Foresta 54 anni originario di Taverna e residente a Botricello. Nell'elenco degli indagati i nomi di un medico e un tecnico radiologo di una struttura privata di Cropani e di tre operatori sanitari del 118 il cui operato è adesso finito al vaglio del magistrato chiamato a verificare se l'uomo si poteva salvare dopo aver ingerito male del solfato di bario parte del quale finito nei suoi polmoni mentre si preparava a sottoporsi a una radiografia col mezzo di contrasto a Cropani. Immediati i soccorsi da parte della moglie che ha poi provveduto ad accompagnarlo al pronto soccorso di Catanzaro dove stando alla denuncia della famiglia assistita legalmente dall'avvocato Francesco Verdi avrebbe atteso circa sei ore prima di essere sottoposto al primo lavaggio dei polmoni il 9 settembre la tragedia. Rapimento per estorsione a Cosenza gli arrestati respingono le accuse hanno risposto alle domande del GIP e hanno respinto tutte le accuse le tre persone arrestate lunedì scorso dalla polizia a Cosenza con l'accusa di aver rapito due minori a scopo estorsivo stamattina si è tenuta l'udienza di convalida degli arresti i tre Laura Spampinato Francesco e Daniele Bevilacqua tutti i 31 anni secondo quanto ricostruito dagli inquirenti avrebbero prima malmenato un mobiliere del Catanzarese dopo avergli dato un appuntamento a San Lucido e poi sequestrato i due figli portandoli a Cosenza i tre avrebbero chiesto denaro come ritorsione per il ritardo nella consegna di alcuni mobili la procura di Cosenza ha chiesto la convalida dell'arresto e la detenzione in carcere per domani è artesa all'ordinanza del giudice per Tele Ionio Lorena Pallotta tentano di rubare in un fast food a Catanzaro due arresti tentato furto ad un fast food nella notte tra mercoledì e giovedì i carabinieri di Catanzaro Santa Maria hanno arrestato nella fragranza di reato di tentato furto aggravato BC 49 anni pluri pregiudicato formalmente residente alla Mezzia e BFP 17enne residente dell'area sud di Catanzaro i militari della stazione di Catanzaro Santa Maria nel transitare con una potuglia automontata in via Lucrezia della Valle nei pressi del centro commerciale Le Aquile hanno notato uno strano movimento di persone nei pressi del fast food che si trova in quel centro commerciale per controllare la situazione sono intervenuti notando due figure che armeggiavano nei pressi di una porta dell'esercizio commerciale gli stessi alla vista dei militari hanno provato ad allontanarsi venendo però bloccati dopo pochi metri i militari hanno così verificato che la porta in questione era stata forzata e nella disponibilità dei due sono stati rinvenuti diversi arnesi atti allo scasso e addirittura un flessibile con delle bombole probabilmente da utilizzare all'interno del fast food forse per forzare la cassaforte i due sono stati quindi condotti in caserma e dichiarati in stato di arresto per il 49enne sono scattati gli arresti domiciliari mentre per il 17enne sentita la procura dei minorenni è stato condotto al centro di prima accoglienza in attesa dell'udienza di convalida la procura di Vibo riapre le indagini sull'omicidio di Francesco Presti Alamberti la procura di Vibo Valencia riapre le indagini sull'omicidio di Francesco Presti Alamberti il 16enne ucciso in località Vindacitu a Mileto il 29 maggio del 2017 per quel delitto il tribunale dei minori di Catanzaro ha già condannato quale unico autore Alex Fititto all'epoca quindicenne figlio di Salvatore Fititto narcotrafficante figura di primissimo pieno della criminalità organizzata a Vibonese sulla torcefatto di sangue che sconvolse la comunità dell'ex capitale Normanna che colpì e commosse l'Italia intera però non si sono mai diradate molte zone d'ombra non agito da solo ripetono da più di tre anni i genitori di Francesco Marzia e Guido parlando dell'assassino da solo dice la madre non poteva fare tutto ciò non tornano i tempi non torna neppure il luogo nel quale è stato trovato il corpo di Francesco è successo tutto in venti minuti da quando mio figlio è uscito di casa in venti minuti non potevano arrivare in aperta campagna bicchiarlo ucciderlo tornare nascondere la pistola sono tanti tanti i punti che non tornano da Carlo Elisabeth Taverna per Teleionio sorpresi a tagliare abusivamente alberi leccio cinque arresti nel reggino continua la pressione dei carabinieri forestali contro il fenomeno dei tagli boschivi abusivi nel territorio della provincia di Reggio Calabria i militari delle stazioni forestali di Merito Portosalvo e Parco di Bagaladi nel corso di un servizio di pattugliamento hanno intercettato ed arrestato in flagranza di reato un'intera squadra composta da cinque persone che attrezzate con camion munito di rimorchio trattore e motoseghe stavano compiendo un'autentica razzia di piante di leccio in un bosco di proprietà di persone all'oscuro di tutto in località Zappino di Bagaladi la squadra nel momento in cui è stata bloccata dai carabinieri aveva già tagliato dei pezzato e caricato sul camion un consistente quantitativo di legname destinato ad aumentare se non ci fosse stato l'intervento delle pattuglie che hanno interrotto il lavoro ed impedito loro ogni via di fuga le persone arrestate hanno un'età compresa tra i 45 e i 26 anni 4 hanno già precedenti per svariati reati mentre una quinta è risultata incensurata truffa dello specchietto ai danni di un'ottantenne di Tauria Nova arrestato giovane siciliano ricercano individuano la loro vittima solitamente anziani soli o comunque persone più vulnerabili lanciano qualcosa sulla carrozzeria dell'auto del prescelto in modo da provocare un rumore più o meno precettabile affiancano la macchina della vittima e in modo più o meno minaccioso lo accusano falsamente di aver rotto lo specchietto della propria auto con una manovra sbagliata alla guida chiedendo in cambio una somma per evitare inutile trafile burocratiche spesso convincendo lo spaventato guidatore è la truffa dello specchietto oramai nota e conosciuta in tutta Italia ma che ancora oggi coinvolge numerosi automobilisti ed è proprio dopo alcune segnalazioni di analoghi tentativi di truffa nel territorio che i carabinieri della compagnia di Taurianova hanno avviato specifici servizi per la ricerca e individuazione dei responsabili che nella giornata di ieri hanno portato all'arresto in flagranza di Giuseppe Scafiri appena 19enne residente noto SR in quanto ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata in danno di un ottantenne taurianovese da Carla Elisabeth Taverna per Teleionio controlli contro spaccio e consumo di sostanze stupefacenti denunce segnalazioni dei carabinieri nel Catanzarese il fiuto del cane Collins durante le operazioni di perquisizione personale domiciliare nei confronti di un giovane di Cerva ha consentito di trovare circa 70 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento dello stupefacente continuano infatti i servizi coordinati di controllo del territorio volti al contrasto del fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti collaborazione del nucleo cinofoli dello squadrone riportato cacciatori Calabria i militari della stazione di Sersale hanno denunciato a piede libero il 25enne nel medesimo contesto operativo i reparti dipendenti della compagnia di Sellia Marina hanno segnalato all'autorità amministrativa prefettizia cinque soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti operazione anti-bracconaggio a Reggio Calabria i carabinieri forestali sequestrano armi e richiami un arresto e due le denunce continua il contrasto al bracconaggio in provincia di Reggio Calabria in particolare nell'ambito delle attività intraprese in tutto il territorio nazionale per la salvaguardia dei piccoli uccelli protetti i carabinieri forestali della sezione operativa anti-bracconaggio e reati in danno agli animali e del comando Regione Carabinieri Calabria hanno intensificato l'attività di contrasto alla caccia estiva frequente in provincia al beccafico catturato per scopi alimentari durante la migrazione post-riproduttiva le operazioni predisposte in provincia coadiuvate anche da volontari esperti dell'associazione ambientalista Committee Agonist Bird Slaughter hanno portato in località Villa Mesa del comune di Calanna alla denuncia di due persone LL residente nello stesso comune e AG residente in provincia di Brescia colti in flagranza di reato per l'uccisione di 26 uccelli in area protetta zona di protezione speciale costa viola abbattuti utilizzando richiami elettroacustici vietati per legge il tutto in periodo di chiusura generale della caccia svariati sono i profili di reato imputabile ai due soggetti reati che includono l'abbattimento di specie protette l'utilizzo di mezzi non consentiti i richiami elettroacustici il porto abusivo di fucile e l'omessa custodia di arma da fuoco in quanto uno dei due soggetti privo di licenza di porto di fucile è stato sorpreso nell'atto di utilizzare un'arma fornita gli dall'altro collega di caccia sequestrati due fucili con relativo munizionamento e di richiami elettroacustici illegali sempre nell'ambito degli stessi servizi antibracconaggio i militari di pattuglie e località palusci del comune di palmi hanno arrestato in flagranza di reato ed in piena chiusura generale della caccia un abitante del posto SC sorpreso a catturare Avifà una protetta utilizzando reti da uccellagione il 53enne il cui arresto è stato convalidato dovrà rispondere all'autorità giudiziaria del reato di furto aggravato venatorio gli esemplari di Avifauna già catturati sono stati immediatamente liberati per Teleionio Lorena Pallotta La Mezzia controllo dei carabinieri forestali tre denunce sequestrati fucili e munizioni intensificati i controlli con l'apertura nel mese di settembre della caccia in particolare nel Lamettino sono stati eseguiti numerosi appostamenti e controlli dalla stazione carabinieri forestali di La Mezzia Terme con l'accertamento di episodi di caccia a specie non consentite e il mancato rispetto della normativa in materia di armi in particolare i militari nella località ferraino estretto del comune di La Mezzia Terme hanno accertato l'abbattimento di quattro esemplari di Colombo Torraiolo piccione selvatico occidentale columba di Valeria e l'ho messa regolare di munizionamento rinvenuto all'interno di uno zainetto posto a terra lungo il bordo di un filare di alberi complessivamente sono stati deferiti all'autorità giudiziaria tre soggetti e sono stati sequestrati tre fucili 110 munizioni quattro esemplari di Colombo Torraiolo e attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività venatoria sparatoria dopo una lite a Vibo Valencia un 58enne in stato di fermo è stato portato in carcere in stato di fermo il 58enne di Vibo Valencia che mercoledì pomeriggio ha aperto il fuoco contro il 44enne GC pure lui di Vibo che si trovava all'interno della sua autovettura in via salvo d'acquisto il 58enne PF si trova in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio dopo essersi consegnato spontaneamente in questura ed aver confessato di essere l'autore della sparatoria nata da futili motivi e liti condominali in particolare il fermato ha raccontato di essere stato pesantemente minacciato da GC e di essersi quindi armato poiché intimorito i due si sono incrociati per strada in località Feudotto dove dopo un violento diverbio PF ha esploso tre colpi di arma da fuoco a bordo della sua auto in direzione dell'auto del rivale colpendo quest'ultimo al torage l'uomo recatosi al pronto soccorso è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni la squadra mobile di Vibo con l'ausilio dei carabinieri ha quindi portato il PM Eugenia Belmonte a disporre il fermo di indiziato di delitto per Tele Ionio Lorena Pallotta Ed ora ci fermiamo per una breve pausa A tra poco La mezza furto in un negozio di slot machine bottino 250 euro Furto con scasso alla mezza nei pressi di Via Colelli secondo quanto appreso i gnoti hanno divelto un distributore di monete all'interno di un esercizio di slot machine portando via 250 euro Indagini sono in corso da parte della polizia anche attraverso l'ausilio di alcune telecamere presenti nella zona Area a vincolo paesaggistico trasformata in discarica e rifiuti smaltiti con incendio due arresti a Reggio Calabria Smaltivano ogni tipo di rifiuto combustibile anche pericoloso incendiandolo i militari della stazione carabinieri forestale di Reggio Calabria hanno scoperto ed arrestato in flagranza di reato due persone che in un'area di circa 2000 metri quadrati totalmente recintata adibita illecitamente a discarica incendiavano il pattume il tutto in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico in località San Cristoforo di Reggio Calabria nei pressi del torrente Calopinace è stato proprio il fumo ad attirare l'attenzione dei militari i quali giunti sul posto hanno trovato un'area totalmente recintata adibita a grande discarica di inerti soprattutto edili eternit e rifiuti di vario genere all'interno c'era un uomo OM di 51 anni intento smaltire mediante combustione qualsiasi cosa fosse in grado di bruciare anche materiali plastici fortemente inquinanti come ad esempio le guaine bituminose impermeabilizzanti successivamente è giunto il gestore dell'area FA un 78enne di Reggio Calabria già noto alle forze dell'ordine anche per gravi reati di tipo associativo i due colti in flagranza di reato i cui arresti sono stati convalidati dovranno rispondere di reati ambientali come la gestione e la combustione illecita di rifiuti ed il getto pericoloso di cose su aree soggette a vincolo paesaggistico per Tele Ionio Lorena Parlotta Presentazione del progetto Asma Zero Week Nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria ancora in corso parte la quarta edizione del progetto Asma Zero Week Mentre continuiamo ad adottare le precauzioni per limitare il contagio Covid-19 non dobbiamo dimenticare infatti che l'asma è una malattia molto diffusa nel mondo ne sono affetti 300 milioni di persone con un impatto molto pesante dal punto di vista sociosanitario La prevenzione e la cura dell'asma restano quindi fondamentali e una corretta gestione della malattia si traduce nel miglioramento della qualità di vita dei pazienti nella riduzione della mortalità e nel contenimento dei costi a carico del sistema sanitario nazionale Asma Zero Week è un evento nazionale promosso da Federasma e Allergie Federazione Italiana Pazienti con il patrocinio della Società Italiana di Allergologia Asma ed Immunologia Clinica SIAIAC e della Società Italiana di Pneumologia SIP In partnership con l'azienda farmaceutica AstraZeneca L'iniziativa intende sensibilizzare i pazienti sull'importanza della prevenzione degli attacchi dell'asma attraverso l'adozione di corrette strategie terapeutiche e informare l'opinione pubblica circa i possibili campanelli d'allarme e i rischi connessi alla loro sottovalutazione Este è dedicato appunto alle persone con asma e dal 12 al 16 ottobre spalancherà le porte di oltre 40 centri specializzati in tutta Italia per offrire ai 3 milioni di pazienti italiani una valutazione dello stato della malattia In Calabria il centro di alta specializzazione di fisiopatologia e allergologia respiratoria di Chiaravalle Centrale diretto dal dottor Gino Scalone è l'unico centro che aderisce all'iniziativa Qui dal 12 al 16 ottobre ogni giorno verranno offerte consulenze specialistiche gratuite ad 8 pazienti per un totale di 40 pazienti Nel corso della visita verranno identificati i fattori che innescano o aggravano la malattia fumo attivo e passivo esposizione ad allergeni inquinamento ambientale utilizzo di alcuni farmaci verranno implementate l'educazione appropriata del paziente e l'aderenza alle terapie Per prenotare la visita occorre chiamare il numero verde 800-6289-89 dal lunedì al venerdì esclusi giorni festivi dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 oppure rivolgersi direttamente al centro di alta specializzazione di fisiopatologia e allergologia respiratoria al numero 0967-99-9145 dalle 13 alle 14 dal lunedì al venerdì Per Teleionio Anna Maria Colabrano Processo Torno Subito 2 su assenteismo al Comune di Reggio 26 condannati Con la condanna dei 26 dei 32 imputati si è concluso il processo Torno Subito 2 nato da un'inchiesta della Polizia di Stato sull'assenteismo nel Comune di Reggio Calabria Il giudice monocratico Andreina Mazzariello ha accolto in buona parte la richiesta della Procura della Repubblica rappresentata dal Procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri e dall'Aggiunto Gerardo Dominiani Ai 26 dipendenti del Comune condannati sono state inflitte pene varianti tra un anno e mezzo ed otto mesi di reclusione Per due degli imputati assolti Pasquale Boncore e Antonino Branca è stata usata la formula perché il fatto non sussiste Gli altri quattro invece sono stati assolti per la particolare tenuità del fatto Si tratta di Antonino Pino Maurizio Delfino Sebastiano Gullì e Pasqualina Scuncia Le indagini della Procura hanno rivelato che molti impiegati del Comune erano soliti attestare la propria presenza sul luogo di lavoro dal quale poi si allontanavano senza un giustificato motivo procurandosi così un ingiusto profitto Incendi a Scalea e San Nicola Arcella in fiamme diversi etteri di macchia mediterranea Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza sono impegnate per domare alcuni incendi che si sono sviluppati lungo il litorale tirrenico nei comuni di Scalea e San Nicola Arcella ad essere interessati dalle fiamme diversi ettari di macchia mediterranea e zone boscate i numerosi fronti di fuoco già dalla tarda serata di ieri stanno impegnando le squadre dei distaccamenti vigili del fuoco di Scalea e Rende squadre boschive dell'azienda Calabria Verde ed un direttore delle operazioni di spegnimento per coordinare tutte le unità di terra ed uno idrovolante alle riscoperte delle vasche di Cassiodoro si parlerà di valorizzazione delle vasche Cassiodoro questo il workshop organizzato per sabato 19 settembre alle ore 17 presso il Lido Blanca Cruz a Caminia un'iniziativa per discutere di valorizzare il promontorio di Copanello che negli anni 80 ha conosciuto una delle speculazioni più selvagge con la costruzione di case in otto piani tanto che a seguito di battaglie ambientaliste dai Verdi Italia Nostra Archeo Club WWF si arrivò a demolirle con la presenza del Ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio una costa ricca di preziosità come le vasche dello statista Flavio Magno Aurelio Cassiodoro che qui fondò il suo Vivarium prima Università d'Europa luogo di studio e contemplazione dei monaci che traducevano gli antichi testi qui lo statista allevava nelle insenature naturali che si erano creati pesci per l'utilizzo degli stessi monaci nel corso degli anni comunque alcuni subacquei si sono interessati a fare delle ricognizioni facendo emergere importanti preziosità archeologiche ora grazie alla sensibilità dell'imprenditore Giovanni Gatti e all'interessamento del padre Libero Gatti già presidente della locale sede dell'Archeo Club crearono il primo deposito archeologico che conteneva reperti del frutto delle campagne e scavi sul promontorio ora in attesa dell'apertura della struttura museale a Palazzo Aracri la giornata prevede due momenti il primo nella mattinata ricercatori accreditati faranno monitoraggi sulle vasche anche tramite immersioni subacquee nel pomeriggio invece si svolgerà questo incontro di battito alla presenza di numerose personalità del mondo scientifico saranno presenti oltre all'imprenditore Giovanni Gatti Alfonso Mercurio sindaco del comune di Staletti Paola Caruso della soprintendenza archeologica Paolo Palladino associazione nucleo sommozzatori Satriano l'imprenditore Massimo Stirparo proprietario del Lido Blanca Cruz che ospita l'evento del campo e animatori di associazioni coinvolti in queste settimane di svago una delle sedi è Casa Maria per attività ludico-ricreative Don Roberto è andato fuori schema ordinario con gioco ha spiegato il senso dello stare in chiesa soffermandosi sulla vita di Gesù chi è Gesù chi è la Madonna il nostro angelo custode tanta l'emozione dei bambini accolti nella chiesa perché come dice Don Roberto e deve essere la casa di tutti e per tutti oggi ha detto Don Roberto ho visto Gesù in voi vivo e vero nei vostri volti e nei vostri sorrisi Gesù ci vuole così perché ci ama e vuole che siamo felici si sta scrivendo così una bella pagina da Maroni di vita sociale nel coinvolgimento di tutti chiesa comune associazioni insieme per costruire la nuova e bella civiltà dell'amore si è partito anche il campo scuola campo estivo dei ragazzi il centro estivo con il coinvolgimento di tutte le associazioni in modo particolare la protezione civile che ha coinvolto tutte le associazioni della nostra comunità per quell'unico scopo dare ai bambini questi pomeriggi ma anche al mattino momenti di svago momenti di preghiera io curerò la formazione spirituale la vita dei santi la affiderò alle suore di squillace le suore della vita apostolica di squillace proprio la vita dei santi ma offriamo momenti ludico-ricreativi proprio per farli stare insieme sempre nel distanziamento in quello che possiamo fare per farli crescere nella gioia vedete come San Giovanni Bosco che amava ecco tutti i bambini e diceva ogni bambino dava ogni bambino la gioia e diceva ogni bambino tu devi abbandonare la via cattiva la strada del vizio per innamorarti sempre di più di Dio noi dobbiamo dare Gesù alla gente le altre cose li danno fuori e li danno anche bene noi dobbiamo dare Gesù alla gente perché oggi il mondo l'uomo ha fame e sete di Dio quindi questa è la missione del sacerdote l'annuncio della parola del Signore convertire il cuore e le anime e portare proprio le anime a Dio è quello che mi sto impegnando sforzando in questa comunità di Amaroni nella continuità ecco dei miei anni di pastorale a Staletti porto ogni ricchezza porto ogni grazia ma porto la gioia del cuore quello dobbiamo avere la gioia proprio dello stare insieme la gioia di Cristo e anche nel dolore vedete la Beata Vergine Maria ci porta ecco ad adorare il Signore Gesù lei ci porta da Gesù ad amarlo e a servirlo sempre di più grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.